Grazie Sistia Sì no, mi ha firmato il giro Sì E io sto messo il mio Quando la porto in reddito Allora lo fai da rivedere Allora... Mi sente poco Come riesce a portare la damigiana a fronte? Allora devo rifare un amato Mi sente male Mi distante per il ginagio E questo vai finire Poi nessun transportare No, non se ci va a insegnare E lo riporta Tuttavia non si muore Un passaggio a porto in andro Un passaggio a porto in paesa un po' da orto un po' non che parlo e' di ore scarico maggiore di quanto sia la super la riccazione Grazie a tutti.